Devi venire di corsa a Roma perché c'è Dario Argento che ti vuole incontrare e ti vuole credo proporre una cosa. Prima vado nell'ufficio di Dario e Dario mi dice guarda ho pensato a te per il protagonista del mio film, è un film che devo cominciare a girare prestissimo al massimo entro 15 giorni, adesso io ti do il copione, tu lo leggi e lunedì mattina mi dici se sei d'accordo o no, mi ricordo che era un sabato e io sono tornato a casa e però siccome erano due mesi che non vedevo mio figlio, avevo molta voglia di vedere mio figlio naturalmente, mio figlio aveva fai conto due anni, due anni e mezzo e stava nelle marche dove noi avevamo una casa e però da Roma per arrivare fin lì ci non avevano tipo fai conto minimo tre ore e mezzo di macchina insomma. Allora io non guido nella vita, guido nei film ho guidato di tutto nei film ma nella vita non guido e convinco una mia amica attrice di teatro ad accompagnarmi da mio figlio. Lei aveva un fidanzato che naturalmente con me ha sentito no devo accompagnare Lino Capolicchio, questo si è subito allarmato, ha detto ma dove vai di notte? Ma lo accompagno, poi certo mi fermo a dormire lì ma non è che lui è da solo lì, ci sono altre persone, è sua moglie probabilmente. Allora e quindi questa lite fa sì che noi dobbiamo partire prima, molto prima alle sei del pomeriggio, invece lei arriva alle nove di sera, io stavo leggendo il copione, quando sento il citofono squillare, era arrivato a tre quarti della sceneggiatura, non l'avevo finita ma era arrivato a tre quarti. Scendo, avevo una sacca, la metto nel bagagliaio, entro con questa sceneggiatura e la getto sul sedile posteriore, non so perché, l'ho gettata aperta sul sedile posteriore. Partiamo, arriva un temporale di quelli mostruosi e arriviamo all'altezza di Valtopina vicino a Nocera Umbra e improvvisamente ad una curva un pazzo ubriaco a tutta velocità, ci viene addosso in pieno. Io batto con la testa sul parabrezza e sento un dolore lancinante al ginocchio. A un certo punto questo scappa naturalmente e io mi giro verso la mia amica, la mia amica era riversa sul volante e non dava segni di vita, io la scuotevo, la chiamavo ma non dava segni di vita. Allora mi prende il panico e mi dico non vorrei che fosse successo qualcosa di grave, mi getto sotto la pioggia grondante e cerco di fermare una macchina. Finalmente un signore si ferma, gli spiego la situazione e lui dice va bene vi accompagno all'ospedale di Foligno. Io tenevo il capo della mia amica sollevato sulla mia spalla e non mi rendevo conto che lei sanguinava moltissimo e quindi quando sono arrivato all'ospedale la mia camicia era tutta imbrattata di sangue e i medici pensavano che io fossi ferito e io ho detto no guardate credo di avere un problema al ginocchio e invece è lei che ha dei problemi. Infatti la mia amica è stata in coma per qualche tempo e io con i sensi di colpa perché dicevo se questa muore sono dolori e io avevo un ginocchio che era diventato una cosa enorme, si era gonfiato enormemente e infatti per un sacco di tempo io non ero in grado di camminare, mi facevano delle infiltrazioni per togliermi questo liquido che si formava in continuazione nella rotula. E' successo un bordello, la radio ha annunciato questa cosa, i giornali eccetera eccetera e quindi ricevo un telegramma di Dario Argento che dice mi dispiace che non puoi fare il mio film, ma la vita è più importante di qualsiasi film. Passano, la mia amica fortunatamente si rià, passano parecchi mesi e una sera ci troviamo a cena io e mia moglie, lei e il suo fidanzato e lei mi dice guarda che io voglio andare assolutamente a vedere la mia macchina in questa autorimessa di Foligno e ho bisogno di vederla con te, perché psicologicamente ho voglia di vederla con te, ho proprio necessità psicofisica, ho detto va bene andiamo eccetera, arriviamo in questa autorimessa e di fronte ai resti di quello che era questa macchina, a vederla tu dici veramente ma quelli che erano dentro come ne sono usciti indenni non si sa, è impossibile, era veramente una cosa pazzesca. Io mi sono avvicinato al finestrino della macchina e imprevisamente ho visto qualche cosa di bianco dentro, nel sedile posteriore e in quel momento ho detto ma certo, ma questo è il copione e il copione che non ho mai finito di leggere, è arrivato a tre quarti, allungo la mano, prendo il copione, il copione era tutto macchiato di sangue dalla prima pagina all'ultima e il film era profondo rosso.